Michele Placido omaggia i grifoni, interessante e viva serata culturale ieri sera ad Ascoli Satriano, dove il maestro Michele Placido ha omaggiato gli splendidi grifoni, patrimonio di inestimabile valore presso il polo museale. Un'iniziativa che ha unito arte, storia, culture e tradizioni con abiti d'epoca ed interessanti rivisitazioni della storia di un tempo. Un evento organizzato dalla Fondazione Michele Placido con l'Associazione Ausculum in Apulia, la città di Ascoli Satriano e la diocesi Cerignola Ascoli. Numerosa la partecipazione di pubblico che ha apprezzato la rivisitazione dell'indiscusso maestro internazionale Placido.